Forse il modo più veloce, più rapido e anche più efficace per comprendere quali siano le sostanziali differenze fra le tre grandi filosofie che hanno contribuito a generare la cultura cinese, mi riferisco al confucianesimo, al taoismo e al buddismo, bene, per capire analogie e differenze fra questi tre sistemi filosofici, possiamo rifarci a una storiella che in Cina viene proprio utilizzata a tale scopo per spiegare questa relazione. La sorella è molto semplice, ci racconta un po' tipo una barzelletta che ci sono un taoista, un confuciano e un buddista che si trovano intorno a un barile pieno di aceto, ognuno intinge il dito nell'aceto e assaggia, ma ognuno dice una cosa diversa. Uno dice questo aceto è troppo acido, bisogna cambiare la ricetta, bisogna insegnare a chi produce l'aceto a farlo meglio perché così è troppo acido. Il primo. Il secondo dice questo aceto è amaro, è molto amaro. E il terzo dice questo aceto è super buono, è dolcissimo, è meraviglioso. Ecco, questi tre sono appunto un confuciano, un taoista e un buddista. Riuscite a riconoscerli? Se avete voglia fate questo gioco, mettete un attimo pausa, scrivete chi secondo voi è uno, chi secondo voi è un altro in un commento e poi riprendete il video perché adesso spieghiamo più o meno chi siano questi tre. Allora, ovviamente la prima, quella che dice è troppo acido e soprattutto dice dovremo cambiare la ricetta, dobbiamo insegnare a creare un aceto migliore, è ovviamente Confucio. La filosofia di Confucio è esattamente quella. Quando trovi qualcosa dentro di te o nel mondo che è sbagliato, devi lavorare per migliorarlo. Allora, se la ricetta dell'aceto produce un aceto troppo acido, non va bene. Bisogna o aggiungere del miele o cambiare la ricetta. L'idea di Confucio è proprio quella. Ciò che non va bene deve essere modificato. Deve essere modificato per renderlo più armonico, per renderlo giusto in qualche modo. L'idea di Confucio è se all'interno di una famiglia ognuno sa qual è il proprio ruolo e come dovrebbe comportarsi quel ruolo specifico, allora la famiglia è in equilibrio e armonica. Cioè, se il capofamiglia sa come si deve comportare il capofamiglia, se la moglie sa come si deve comportare la moglie, si comporta in quel modo, se il primo figlio maschio si comporta come dovrebbe comportarsi il primo figlio maschio, il primo figlio femmina, la prima figlia femmina, il secondo figlio maschio, eccetera, eccetera, se ognuno si comporta nel modo in cui deve comportarsi, tutto il sistema è armonico, il sistema familiare. Ma se noi considerassimo lo Stato come una famiglia, allora avremo l'imperatore che dovrà comportarsi in un certo modo e non in un altro, il primo ministro che dovrà fare bene il primo ministro, quindi fare certe cose e non altri, funzionari imperiali, eccetera, eccetera, a quel punto tutta la società sarebbe in armonia. Questa è l'idea di Confucio. Il mondo un po' è sbagliato, va rettificato. Tu un po' sei sbagliato, hai delle parti di te che non vanno, bisogna tenerle a freno e coltivare invece quelle che sono buone, sante, giuste, eccetera, eccetera. Questa è l'idea fondamentale di Confucio. Il secondo assaggiatore, quello che dice è amaro, è invece il Buddha. Perché il Buddha dice che l'aceto è amaro? Il Buddha dice che l'aceto è amaro perché parte dal presupposto che quell'aceto, così come tutte le cose che esistono, in realtà siano semplicemente illusioni. E il Buddha dice che nel momento in cui tu ti attacchi a queste illusioni pensando che invece siano vere, concrete, reali, quindi generando quello che viene chiamato l'attaccamento nei confronti delle cose, nel momento in cui poi quelle cose si manifesteranno per la loro natura, quindi come illusione, tu soffrirai. Quindi l'idea tutto è illusorio e questa cosa genera in primis dentro di noi sofferenza. E quindi potremmo leggere questo amaro non soltanto come un sapore, ma anche come quando diciamo un pochino, che ne so, una vita amara. Ecco, c'è un po' un atteggiamento un po' depressivo all'interno dell'idea base del Buddismo, cosa che ovviamente poi viene superata dalla soluzione. Siddhartha dice l'universo è illusorio, l'attaccamento è illusorio, ma genera sofferenza. Il modo per evitare, per trascendere, per superare questa illusione è seguire le quattro nobili verità, cioè imparare, capire le quattro nobili verità, e seguire invece lo tuplice sentiero, che è, diciamo, il metodo creato dal Buddha per superare la tristezza, sostanzialmente l'amarezza della vita. Il terzo personaggio ovviamente è il taoista. Il taoista sorride, il taoista assaggia e dice è buonissimo, è dolcissimo questo aceto. E anche qui il termine dolce non dobbiamo leggerlo esclusivamente come un sapore, ma dovremmo leggerlo un pochino come se Lao Tzu stesse dicendo questo aceto è giusto, va bene così, non deve essere modificato. E vedete subito come entrano in contrasto l'atteggiamento confuciano con l'atteggiamento taoista. Uno diceva è sbagliato questo aceto, bisogna cambiare la ricetta o aggiungerci del miele, eccetera, dobbiamo migliorarlo. L'altro dice è già perfetto così, è naturale che l'aceto sia acido. È naturale anche che l'aceto appaia amaro agli occhi del buddista, ma in sostanza quell'aceto è giusto che sia così. Il punto di partenza dei taoisti è che il mondo per come si manifesta, al mondo naturale è perfetto e ogni tentativo di modificarlo lo peggiora. Quindi Lao Tzu dice non lo tocchiamo. Al massimo se lo reputerai troppo acido ne userai un pochino di meno. Ora va detto che queste due filosofie, il confucianesimo e il taoismo, nascono contemporaneamente praticamente in un periodo particolare della storia della Cina. Siamo all'incirca nel 500-400 a.C., periodo che passerà alla storia con il nome di periodo degli stati combattenti. È crollata qualche secolo prima l'ultima dinastia, quella dei Zhou, che aveva tenuto insieme tutto il popolo cinese, e nessuno è riuscito a mettersi a capo di una nuova dinastia che tenesse tutti insieme, e il territorio cinese si è quindi porzionato, frazionato in staterelli, in costante guerra tra di loro per capire chi sarebbe dovuto essere il nuovo reggente della nuova dinastia che avrebbe di nuovo unificato tutti quanti. Di fronte a questo problema, che potremmo definirlo come il barile dell'aceto, Confucio dice una cosa, Lao Tzu ne dice completamente un'altra. Confucio dice possiamo uscire da questa situazione se cambiamo l'essere umano, se cambiano il pensiero dei regnanti, se si abbracciano idee come l'umanità, come la fratellanza. Considerate che la frase che noi, per esempio, in Occidente attribuiamo a Gesù, non fare ad altri ciò che non vorresti essere fatto a te stesso, l'ha detta 500 anni prima di Gesù, l'ha detta Confucio. Quindi la sua idea è creiamo un sentimento di fratellanza, miglioriamo la società, miglioriamo l'essere umano. Questa è la sua strategia, è la sua cura per uscire dal periodo degli stati combattenti. Lao Tzu invece fa un discorso completamente opposto. Lao Tzu dice ma se noi oggi siamo in questa situazione così traumatica, così tragica di guerra e di lotte, è proprio perché abbiamo sposato la mentalità di dover modificare il mondo per renderlo migliore. Cioè Lao Tzu sta dicendo guardate che la cura che propone Confucio è il problema che tiene su il periodo così violento degli stati combattenti. Perché? Perché Lao Tzu dice ma scusatemi un attimo, ogni regnante sarà convinto di essere lui il detentore della giustizia, della bontà, della verità, di essere il sovrano migliore. Ognuno è evidente e di conseguenza la lotta che ognuno porta avanti è proprio per cercare di migliorare il mondo, di imporre la loro idea di bene su tutti gli altri. Quindi capite? Quello che Confucio cerca di fare, migliorare l'essere umano, e quindi la società, per Lao Tzu è il problema. Perché il mondo per Lao Tzu è già perfetto così com'è. È proprio il fatto che noi vogliamo migliorarlo, è proprio il fatto che ogni sovrano vuole imporre la sua visione sugli altri, a rendere il mondo un posto peggiore. Quindi capite? Sono due approcci completamente differenti. In questo clima di atriba, di scontro, arriva, 600 anni dopo circa, quindi siamo nel primo secolo dopo Cristo, arrivano i buddhisti. Il buddismo arriva in Cina e normalmente, come è naturale che sia, non viene immediatamente accolto. Perché? Perché porta con sé delle idee molto rivoluzionari, molto difficili da accettare, soprattutto per un confuciano. Tu, a un confuciano, non puoi dirgli che tutto è illusione, perché quello invece genera tutto il suo sistema sull'idea che le cose ci siano e che lui possa modificarle. Quindi un confuciano immediatamente, insomma, ha un po' di difficoltà ad accettare subito il concetto buddista. Meno difficoltà ce l'hanno avuto i taoisti. Per quanto ci siano delle differenze tra taoismo e buddismo, vedremo che poi le due dottrine si sono praticamente fuse, creando un buddismo nuovo, qualcos'altro rispetto a quello che era ciò che era arrivato dal Tibet, dall'India. Se volessimo considerare una differenza fra il buddismo originale e il taoismo, la differenza forse più forte è proprio questa idea. Per il buddismo, il mondo, l'universo è un'illusione. L'aveva presa dall'induismo questa idea, ovviamente. Il mondo è il sogno di Brahma, no? È un sogno. Mentre per i taoisti il mondo, l'universo esiste, ad essere illusoria è il nostro tentativo di descriverla. Cioè le cose ci sono, ma nel momento in cui noi cerchiamo di descriverle, non riusciamo a rendere perfettamente, nella nostra descrizione, come stanno le cose. Quindi la realtà, in questo modo, è inconoscibile, incommunicabile agli altri nella sua interezza. Il problema è quando noi usiamo questo sistema per spiegarci un pochino la realtà, quindi inventiamo una spiegazione di come funzionano le cose, ma poi cominciamo a credere che quella spiegazione sia realmente come funzionano le cose, e non un tentativo di comprendere. Quindi c'è illusione anche nel taoismo, non rispetto alla realtà, maggiormente rispetto all'idea che noi ci facciamo della realtà. Che appunto per i taoisti è un'illusione. Comunque, all'incirca 7, 8, 9, in certi casi, secoli dopo, si arriva a una sinergia. Il buddismo ha strizzato un po' l'occhio al confucianesimo. Certi aspetti del buddismo si sono trasformati in un sistema gerarchico, in cui i vari monasteri sono organizzati e seguono logiche molto confuciane, regole ferre, ruoli molto ben definiti, ognuno deve fare quello che deve fare, eccetera. Quindi in questo modo si avvicina un pochino il pensiero buddista a quello confuciano. E dall'altra parte si cerca anche una sinergia con il taoismo, sinergia che produrrà un nuovo tipo di buddismo. Quello che sopravvive più forte a un periodo, abbiamo detto, di circa 7-8 secoli, in cui il buddismo cerca di farsi accettare all'interno della società cinese viene in certi casi perseguitato, in certi casi innalzato, insomma, passa un periodo un po' turbolento, a un certo punto fuoriesce una scuola, la scuola Chan, del buddismo appunto Chan, che è la risultante fra il taoismo originale e il buddismo che era arrivato in Cina. Questa sinergia tra buddismo e taoismo è sostanzialmente quella che genera il pensiero dello Zen. Due parole veloci sul buddismo Zen. Il buddismo Zen modifica principalmente, in realtà, moltissime cose, ma quelle principali sono, di sicuro il concetto di illuminazione cambia, l'idea della trascendenza dall'illusorietà del mondo, era ovviamente già un'idea di Siddhartha stesso, il concetto di nirvana, di illuminazione, eccetera, ma un tempo, precedentemente all'incontro con il taoismo, l'illuminazione era il frutto di un percorso di rinuncia, in buona sostanza. L'ottubrice sentiero ti dice comportati così e non cosare, rinuncia a questo, è un meccanismo morale, se volete. Dall'incontro col taoismo invece esce fuori, nello Zen, l'idea dell'illuminazione come una folgore, come qualcosa di istantaneo, come qualcosa che non è il frutto di un lavoro fatto per anni, o addirittura per vite, ma è qualcosa che accade spontaneamente, che ti colpisce, e che non ha nulla a che fare con quanto tu, per esempio, abbia studiato. Anche qua c'era l'idea che studiare la tradizione, studiare il canone buddista, fosse una parte importante, indispensabile per arrivare all'illuminazione, e invece lo Zen, prendendo questa idea dal taoismo, ci racconta storielle che avete sicuramente già letto, e che risultano un po' strane, incomprensibili, che ora forse si capiscono un po' di più, per esempio la storiella del tizio, qualsiasi che sta tagliando le canne di bambù, ne taglia da anni, è il suo lavoro, lo fa ormai praticamente senza pensare, a un certo punto, all'ennesima canna tagliata, esattamente come ha tagliato tutte le altre, non c'è nessuna differenza, ma a un certo punto, come appunto un fulmine, una folgore, si illumina. Oppure la storia del vasaio, che all'ennesimo vaso, di colpo, ottiene una presa di consapevolezza, che appunto è, in sostanza, il concetto di illuminazione. Ci sarebbero da citare ancora un sacco di cose, che vengono prese dalla cultura cinese, taoista, e vengono inserite all'interno del buddismo, mi viene in mente per esempio, tutto il discorso sui koan, tutto il discorso sulle frasi senza senso, che servono a trascendere la mente, ne ho parlato in un video, si chiama Le uova hanno le piume, ve lo lascio qua in descrizione, o in scheda, ma la cosa più importante, dopo aver guardato quali sono le differenze, è cogliere un aspetto fondamentale, che i cinesi chiamano sanjiao, yijiao, cioè, sanjiao vuol dire tre pilastri diversi, yijiao, cioè, sono un pilastro, cioè, i tre si riuniscono. E capite che per noi è molto difficile questa cosa, pensare che tre dottrine, che pensano cose completamente diverse, del mondo, e di come bisogna comportarsi, per rendersi più armonici possibili con il mondo, stiano insieme, e siano la base, su cui i cinesi hanno costruito la loro cultura. Per noi è difficile, è strano, per noi cose contraddittorie, bisogna sceglierne una, o è bianco o è nero, o è vero o è falso. Ecco, loro non hanno questo obbligo mentale, non hanno la mente molto più elastica, e dicono, aspetta, se ci rifletti, alla fine, tutti quanti, i tre maestri, stanno assaggiando lo stesso aceto. Eppur, dicendo cose diverse, non ha senso dire, ha ragione Lao, ha ragione Confuci, o ha ragione il Buddha. Ha molto più senso dire, sono tre punti di vista arricchenti per comprendere meglio quello che stiamo osservando, in questo caso l'aceto. Cioè, la mente cinese riesce a tenere insieme, senza problemi, concetti contraddittori. Riesce a essere Confuciana in certi momenti, Taoista in altri, e Buddista ancora in altri ancora. Ecco, questa secondo me è una cosa che noi, come cultura, diciamo occidentale, dovremo imparare dai cinesi. Loro sono maestri a fare questo, mentre noi non siamo assolutamente in grado, noi passiamo da idea a idea, da dottrina a dottrina, dicendo ora è meglio questa, ora è meglio quell'altra, ma non siamo in grado di tenere insieme concetti contraddittori. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questo video, c'è il cane anche cabaia, quindi direi che siamo arrivati proprio in fondo in fondo. Io spero in qualche modo di avervi aiutato a comprendere meglio da una parte le differenze fra i vari sistemi filosofici che stanno alla base della cultura cinese, ma dall'altra parte anche cogliere questo aspetto che loro riescono a mantenere insieme anche aspetti contraddittori senza il problema di dover definire quale è giusto e quale è sbagliato, quale è sbagliato, scusate, fra i tre. Se vi sono rimaste domande, dubbi, preplessità o consigli, scrivetemi pure nei commenti, io non posso fare altrimenti che ringraziarvi per aver visto questo video e aspettarvi, se vorrete, al prossimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.